E' l'imponente vulcano davanti ai nostri occhi di questa straordinaria isola dell'arcipelago eoliano. Amici di Bella Sicilia, buon pomeriggio a tutti dall'isola di Vulcano. Percorriamo questa via, via fatta da, composta da artigianato, da botteghe, ristoranti, bar, ammirando il vulcano lassù in cima. E dalla su il panorama è davvero mozzafiato, straordinario, lo abbiamo vissuto qualche anno fa e ci ha lasciato senza parole. Ora percorriamo questa via, ammirando un po' l'artigianato di quest'isola, l'artigianato dell'isola di Vulcano. L'ultima eruzione di questo vulcano risale al 1880-1890 e da allora le fumarole zolfifere denotano appunto l'attività, silente ma sempre presente. Noi continuiamo questo vicolo, vicolo che fa innamorare passo dopo passo, perché i colori e gli elementi che lo caratterizzano sono davvero piacevoli da guardare e da acquistare per un bel ricordo da portare con sé nella propria città. E poi tante pietre, profumo che sentiamo, l'odore forte è quello di zolfo per via delle fumarole, infatti chiunque verrà a Vulcano porterà con sé appunto questo odore forte nei propri indumenti, ma aggiungo anche nel proprio animo perché questa è la caratteristica dell'isola e quindi ci si abitua. E' appunto la peculiarità. Manne già un ciò. Grazie a tutti. Grazie a tutti.